Il valore dello sport e dell'alimentazione nello sviluppo del bambino è il tema che è stato trattato nell'auditorium dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela. Sono stati presentati il progetto di educazione alla salute, allo sport ed ambiente per gli alunni delle scuole di ogni ordine grado del Comune Gelese per l'anno scolastico 2016-2017, le manifestazioni sportive promozionali, storico-culturali e ambientali che si terranno nel Parco di Montelungo, nel Centro Storico e alle Mura Timoleontè. Giuseppe Veletti, Presidente della Green e Sport. Noi ormai da otto anni coinvolgiamo tutte le scuole di Gela, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado. Tutti i bambini, nonché i genitori, gli insegnanti delle scuole che prenderanno parte a queste iniziative di valorizzazione e fruizione di aree urbane e non, e siti archeologici, centri storici, con l'obiettivo di far vivere delle giornate non soltanto sportive, ambientali, culturali, ma principalmente di socializzazione. Ai nostri microfoni il dirigente scolastico Viviana Aldisio. Questo non è il primo anno che noi aderiamo ai progetti e alle attività che l'Associazione Green e Sport promuove nel territorio. Indipendentemente che il professore Veletti si trovi ad essere una risorsa della scuola, quindi una risorsa umana, insegna presso questa scuola. Condividiamo in realtà gli obiettivi e la linea di indirizzo di quello che l'Associazione Green e Sport promuove nel territorio, che è il connubio fra gli importanti valori per una sana crescita dei nostri alunni, lo sport, il benessere fisico, quindi la salute, e la contestualizzazione nel territorio rispetto alla valorizzazione dello stesso e dei siti più belli e più importanti dello stesso, che i ragazzi hanno diritto di conoscere ma nel contempo di vivere, quindi attraverso esperienze concrete di vita vissuta presso i siti medesimi.